superanima 7 la scuola celeste di jane roberts voce silvia capitolo 6 il secondo sogno di joseph joseph si sentiva solo come se l'anima lo avesse abbandonato o come se nel dipinto che aveva appena distrutto ci fosse stata una parte della sua anima non aveva il coraggio di guardarlo un'altra volta gli era bastata una rapida occhiata al rivestimento di vernice tutto imbrattato in certi punti la pittura era stata graffiata via fino alla nuda tela il ricordo della prima quasi accecante ispirazione del dipinto riaffiorava adesso per prendersi gioco di lui non era stato all'altezza naturalmente l'unica grande ispirazione della sua vita e lui l'aveva rovinato in un attacco di rabbia o forse l'aveva danneggiato senza rimedio ancora prima di distruggerlo sapeva fin dall'inizio che non sarebbe mai stato capace di dipingere quel capolavoro apparso in modo così vivido nella sua mente joseph non amava analizzare i propri sentimenti gli piaceva abbandonarsi unicamente alle emozioni oppure dipingerle l'auto esame lo rendeva nervoso ma quei pensieri seguitavano a presentarsi mentre lui lottava con queste considerazioni pratiche piuttosto spiacevoli doveva andarsene al più presto da quel posto jonathan gli avrebbe dato una bella batosta e col dipinto distrutto non c'era niente con cui contrattare avrebbe potuto battersi con jonathan se necessario erano più o meno della stessa taglia ma jonathan si sarebbe sentito dalla parte della ragione sarebbe stato furioso e lui non avrebbe potuto far altro che difendersi ecco a cosa si era arrivati tra un borbottio e l'altro joseph misi assieme i suoi utensili i pigmenti secchi dei vasi di olio vernice i pennelli e tre tele arrotolate sentendosi ogni minuto sempre più afflitto ammucchiò la roba accanto alla porta e guardò dalla finestra le pianure e le basse colline ammantate di neve c'era ogni tanto qualche fattoria dove avrebbe potuto fermarsi se solo fosse stata estate avrebbe potuto improvvisare delle scenette comiche alle feste cittadine o adulare le donne al mercato e non ci sarebbe stato alcun problema trovare un posto dove sistemarsi ma era inverno e lui aveva distrutto il suo nido si lasciò cadere sul letto e fissò il fagotto della sua roba ora vedeva tutto in modo diverso non l'avevano ancora sbattuto fuori perché avrebbe dovuto cacciarsi in strada nel cuore dell'inverno forse poteva mettersi in salvo forse poteva inventare una storia abbastanza convincente forse poteva ad un tratto gli venne in mente il volto di avona osentauf era proprio fissata con quel dannato dipinto la faccia che aveva fatto alla vista del quadro sarebbe stato un ottimo soggetto per uno studio sulla rabbia ma era davvero il colmo joseph cade in un sonno spossato ogni tanto si menava in attesa che da un momento all'altro gli piombasse addosso la furia degli osentauf si svegliò che era mezzanotte passata e la casa era silenziosa confidando ben poco nella buona sorte si alzò senza far rumore e aprì la finestra gli osentauf dovevano essere rientrati tardi ed erano andati a letto trattenendo il respiro e sorridendo per la sua astuzia joseph gettò con cura nella neve l'involto delle sue cose attraverso la finestra non osava usare le scale scricchiolavano andò all'altra finestra invece e si lasciò cautamente cadere per pochi metri fino alla tettoia la temperatura era sotto lo zero ma ora l'aria fredda era eccitante e si univa all'improvvisa esuberanza di joseph una volta balzato a terra pensò alla rabbia impotente degli osentauf quando avrebbero scoperto che se n'era andato e che il dipinto era distrutto con un po di fortuna non si sarebbero accorti della sua fuga se non il mattino dopo e questo gli avrebbe dato almeno un buon vantaggio e perché avrebbero dovuto seguirlo avrebbero urlato invece sputato dalla rabbia sapevano che joseph non aveva alcun modo di ripagarli per il vitto e l'alloggio anche se si fossero dati la briga di catturarlo attaccò gli sci si tirò lo zaino in spalla e partì da prima fu piacevole in tutta quella neve notturna ma aveva dimenticato quanto fosse pesante il suo carico e siccome era rimasto al chiuso tutto l'inverno il freddo insolito incominciò a infastidirlo poi a turbarlo finché alla fine il povero joseph non riuscì a pensare ad altro e non era neppure un bravo sciatore si sentiva più voluminoso del solito ed era vero aveva indossato tutti i suoi abiti tre giacchette due paia di pantaloni e due completi di biancheria e ora il corpo crudeva e sudava mentre la faccia avvertiva il freddo fino all'osso ma ne valeva la pena pensò joseph cercando di riacquistare l'allegria che aveva provato poco prima la fine di un'epoca di nuovo in salvo fu acciuffato verso il mattino si era fermato a riposare le prime luci del giorno quando ad un tratto vide avvicinarsi le slitte trainate dai cavalli e sentì lo stupido tintinio dei campanelli e percepì quell'orribile duro blocco alla bocca dello stomaco gli sarebbero stati addosso in un batter d'occhio non c'era posto dove nascondersi e lo avevano già avvistato poteva prevederlo dalla cattiva intenzione che traspariva dalla testa e dalle spalle di jonathan mentre guidava la slitta non ci si poteva sbagliare su quel caparvio profilo le parche gli stavano alle calcagna dandogli la caccia nei panni di elgren e jonathan e degli altri due seduti nel retro i fratelli di elgren probabilmente con sua grande meraviglia si sentì paralizzato incapace di muoversi o di fare qualunque cosa fuorché osservare il loro approssimarsi la slitta era sempre più vicina i suoi grigi contorni assunsero una forma distinta il colore rosso si fece sempre più brillante sempre più reale joseph aveva la sensazione che tutto slitta cavalli e cavalieri cavalcassero da qualche luogo di incubo nella sua mente per perseguitarlo quaggiù d'altronde sembrava che gli avessero sempre dato la caccia che l'inseguimento non sarebbe mai cessato e che quell'istante non avrebbe mai avuto termine perché si incomodavano si interrogò con un quieto stupore che neanche incominciava a rasentare il panico vendetta che altro ma già la tozza figura di jonathan si era animata e stava saltando giù dalla slitta con suo padre che gli veniva dietro seguito dagli altri due lo raggiunsero in un baleno avevano delle corde e gliele gettarono intorno al corpo immobilizzandogli le braccia continuava a gridare jonathan brigante ladro ancora corda legatelo per bene la vista della corda fece letteralmente impazzire joseph cominciò subito a menar calci a urlare a mordere lo buttarono a terra gli tolsero gli sci e lo cacciarono nel retro della slitta i fratelli di elgren entrambi corpulenti di solito uomini di buon cuore ora stavano sghignazzando pensavano che fosse un gran bello scherzo in mezzo a loro due legato da capo a piedi joseph lanciava occhiate cariche d'odio jonathan imprecava incessantemente dal sedile anteriore e suo padre elgren continuava a brontolare sì sì si divertirono per tutto il viaggio fingendo di prendere in considerazione le vendette più sanguinarie dicendo continuamente a joseph che non doveva preoccuparsi il suo destino era già segnato con una punizione molto appropriata per il suo misfatto lui finse di non sentire una parola cosa avevano davvero in serbo per lui joseph chiuse gli occhi e cercò di non pensarci sapevano di lui e bianca si chiese disperato l'ansia lo stordiva ancora più dal movimento della slitta che ora stranamente aveva incominciato a infastidirlo finalmente il viaggio finì lo trascinarono giù dalla slitta con grida trionfanti poi su per i gradini e infine in cucina dove bianca sua madre e i due ragazzini più piccoli lo mostrarono a dito ridacchiando tutti di ottimo umore lo sbatacchiarono da una parte all'altra lo fecelo salire a spintoni al di sopra e lo gettarono nella sua stanza jonathan lo spinse sul letto abbiamo deciso che ne faremo di te mio grande artista disse jonathan la sua testa rotonda fece un inchino si inumidi le labbra gli occhi grigi luccicarono mise le mani sui fianchi robusti non è vero gente certo si udì gridare da dietro la porta dove il resto della famiglia si era raccolta per sbirciare all'interno dalla sommità delle scale ti metteremo in prigione è troppo complicato portarti in città e farti arrestare dei bravi contadini come noi non possono perdere tutto quel tempo e quindi questa stanza sarà la tua prigione cenni di assenso e grida tutto attorno joseph si dimenò sotto le corde e gettò un'occhiata torva ci farai un quadro come hai promesso e non ti sarà dato da mangiare se non lo farai ogni giorno ognuno di noi verrà quassù con un po di cibo e se non lavorerai ad un dipinto che ci colpisca la fantasia diventerai sempre più magro e più leggero bianca diede un colpetto a sua madre ridacchiò elgren gli si piantò davanti è giusto un patto è un patto tu non lascerai questa stanza finché non avremo un quadro decente non importa quanto ci vorrà mia moglie qui vuole un dipinto della fattoria identico a quello di prima ci ha riposto il cuore e lo avrà ma non posso copiare un dipinto dal principio alla fine strillo joseph non si può mai avere un dipinto uguale all'altro è meglio che impari a farlo allora disse avona facendosi avanti agitandogli in faccia il gringliule pensavi di farla franca non hai mai avuto intenzione di finire quel quadro e se la scorsa notte la povera bianca non si fosse sentita male non fosse rimasta alzata fino a tardi per colpa dell'insonnia non avrebbe visto le tue impronte che arrivavano fin là fuori nella neve bianca abbassò gli occhi joseph l'avrebbe ammazzata e sprangheremo le finestre con delle assi per farla sembrare ancora di più una vera prigione disse jonathan perciò lavorerai sodo per uscire di qua quando ci avrai dato un quadro che sia di nostro gusto in cambio di tutto il cibo che hai mangiato ti lasceremo andare per la tua strada ma non potete tenermi prigioniero in questo modo riusci a dire joseph perché è immorale non riuscirei a dipingere così rinchiuso e poi ho bisogno di luce non potete sprangare le finestre con le assi in un primo momento si era sentito proprio sollevato era vivo dopo tutto ma ben presto si rese conto che la solitudine e l'isolamento sarebbero stati insopportabili avevano scelto l'unica cosa che più probabilmente l'avrebbe fatto ammattire e in qualche modo sarebbe scappato si disse mentre guardava quelle facce arrossate trionfanti ma quel pomeriggio inchiodarono le finestre non ci fu cibo per tutto il giorno e tutta la notte e joseph non riuscì a dipingere gli lasciarono delle lanterne ma lui rimase seduto nella tetra oscurità senza accenderle non riusciva a dormire alla fin fine si diede a misurare la stanza a passi sempre più arrabbiato e abbattere i pugni sulla porta nel bel mezzo della notte almeno li avrebbe fatto impazzire con quel suo fracasso ma nessuno lo degnò della minima attenzione si sfinì gettandosi contro la porta gridando lanciando i mobili preso dal disgusto si rese conto che niente avrebbe funzionato hanno proprio intenzione di fare come hanno detto constatò ad alta voce con aria stupefatta non ci aveva creduto davvero ma un patto era un patto per elgren e jonathan era così semplice se lui avesse dato segni di vera inedia avrebbero mandato le donne dei suoi parenti probabilmente affinché il suo stato non fiaccasse la loro fermezza formicoli di sudore provocati dal panico gli zampillarono sul volto colandogli sui baffi e poi neanche sapeva se ora sarebbe stato capace di produrre un quadro decente l'essere costretto a lavorare avrebbe solo che peggiorato le cose se neppure lui riusciva a far lavorare se stesso come ci sarebbe riuscito chiunque altro lanciò un'occhiata torva alle finestre inchiodate posentauf intendeva davvero rinchiuderlo per sempre e farlo morire di fame se necessario stentava a crederlo in vita sua non aveva mai fatto del male a nessuno e poi come mai l'avevano preso così tanto sul serio i pensieri vacillavano ad un certo punto gli parve che i suoi denti sgranocchiassero una mela con gran gusto diede un bel morso alla buccia croccante che si spaccò con un rumore simile ad uno scoppio joseph si rizzò a sedere imprecando e diede un'occhiata alla stanza che ora aveva una sinistra aria d'attesa tanto da fargli tirare le coperte fin sopra il mento al mattino jonathan ed elgren salirono insieme lassù diede una breve occhiata intorno niente lavoro niente cibo sentenziò jonathan non è che l'atmosfera favorisca molto di ispirazione gridò joseph dal letto ma i due marciarono fuori senza una parola di più chiudendosi dietro la porta chiave morirò di inedia prima di alzare un pennello per farvi un quadro gridò joseph ma nessuno rispose non c'era nessuno con cui parlare bevette l'acqua che erano stati abbastanza pietosi da lasciare nella caraffa ma gli stava venendo il capogiro per mancanza di cibo il giorno seguente rimase a letto a rimuginare e osservare i pochi raggi di luce che filtravano dalle fessure delle finestre sprangate una tinta crepuscolare riempiva la stanza si sentiva apatico si era quasi convinto che bianca sarebbe sicuramente salita di soppiatto con del cibo per lui ma a quel punto si appisolò un attimo dopo stava sognando poi il sogno stesso vibrò si scisse in due l'aria mandò dei bagliori joseph stava guardando il suo doppio che lo scrutava dall'alto coi baffi irti gli occhi cordiali e stranamente comprensivi che ci fai qui disse joseph sei per caso un altro me stesso sto di nuovo sognando uno di noi ne ha già abbastanza di problemi non me ne servono due ho pensato che la tua immagine sarebbe stata rassicurante disse sette rassicurante ma quanto poco ne sai gridò joseph e girò la testa verso il muro va bene va bene disse sette ferito e allora prese le sembianze di un vecchio saggio così va meglio? girati così mi puoi vedere disse grazie al cielo ora sei uno di cui mi posso fidare disse joseph ma dove sei stato? non ti ho visto in sogno negli ultimi tempi ho avuto molto da fare e poi non dovrei neanche essere qui probabilmente però sono sempre in contatto con te mi ricordi sempre di più me stesso a parte il fatto che ti cacci di continuo in pasticci del genere e non ce n'è mai bisogno potresti evitarli così facilmente stavolta l'hai proprio fatta grossa gli osentaf non ti lasceranno libero a meno che tu non produca hai provocato il loro senso dell'onore ti daranno una lezione anche se morirai di fame ma sto sognando disse joseph sì e no stai dormendo io sono realmente qui sei questo che intendi ma non mi tratterò a lungo non puoi andartene a abbandonarmi supplicò joseph non ho avuto nessuno con cui parlare per giorni e giorni impazzirò se non sono ancora impazzito mi devi aiutare ti ho dato l'idea per quel dipinto e tu cosa ne hai fatto rovinato devono proprio piacerti i guai disse sette dissolvendosi non puoi andartene non lo sopporterei gridò joseph se proprio te ne devi andare portami con te assolutamente sbalordito per la proposta sette riapparve e si mise a riflettere non è ragionevole non è per niente saggio disse non sei neppure pieno di risorse come maa o proteus o lidia e non riesco a credere a una parola di ciò che dici perché cambi continuamente idea allora mi prenderai? ti prenderò disse sette con un sospiro ma solo perché c'è qualcosa nel mio intimo che si preoccupa sempre per te però devi fare ciò che ti dico anche se al tuo risveglio non ricorderai molto probabilmente se fossi sveglio in termini umani non mi avresti fatto questa domanda che domanda? disse joseph non importa guardati in giro e dimmi cosa vedi joseph alzò le spalle una sedia il cavalletto le finestre e una ridicola scimmia gialla la scimmia non è davvero là è un'allucinazione falla sparire altrimenti sarai tutto confuso farla sparire hai una scimmia nella tua stanza di solito? gli chiese sette come se stesse parlando a uno scolaro ottuso no e allora non dovrebbe essere qui in questo momento è un elemento onirico dille di sparire oppure proseguirò senza di te battene disse joseph alzò la scimmia e quella scomparve joseph granò gli occhi una sensazione di potere lo fece sorridere allegramente quanto a te disse supponiamo che ti faccia sparire e dopo cosa faresti? disse sette capisco cosa vuol dire c'è dell'altro? beh non sono troppo contento al pensiero di trascinarti con me ma c'è qualcuno a cui devo fare una visitina prima di tornare si tratta di proteus non preoccuparti seguimi e non voltarti a guardare il letto coraggio lo faremo nella maniera più facile prendimi la mano non appena joseph ebbe afferrato la mano di sette i due cominciarono a sollevarsi in aria la coscienza di joseph si spense per un istante proprio come sette si aspettava che sarebbe accaduto con tutta probabilità da incosciente joseph era assai più ragionevole e più facile da trattare cyprus osservò sette che si trascinava dietro joseph ma sorrise tra sé e non fece alcun tentativo di mettersi in contatto con lui la tecnica di sette era tutt'altro che discreta di mettersi in contatto con lui la tecnica 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 di mettersi in contatto con lui